... Presidente Gianmarco Bisogno, l'Emma Villas torna subito a vincere in casa, una bella vittoria convincente contro Mondovì, le sensazioni e le emozioni di una partita non semplice perché la squadra arrivava da una sconfitta a Montefiascone, vincendo questa partita momentaneamente la squadra anche nuovamente prima in classifica. Ma è un campionato molto equilibrato, quindi si seguono risultati imprevedibili, Santa Croce che batte, no prevedibile no perché Santa Croce è una squadra forte perché batte Spoleto, noi che si vince tra virgolette agevolmente con Mondovì, quindi è ancora tutto molto lungo, tra l'altro noi nel girone bianco andiamo a incontrare le squadre del Giove Blu che sono forse più in forma delle squadre del Giove Blu, è un po' complesso il ragionamento perché ha questo meccanismo, però insomma oggi credo che i ragazzi hanno dimostrato che sono compatti, sono forti, sono nei momenti difficili, sempre dopo ogni sconfitta riusciamo a rientrare subito in partita, a fare delle prestazioni importanti, quindi dai bisogna lavorare ancora tanto comunque. Presidente, c'è ora una settimana importante nel corso della quale la squadra potrà lavorare, lavorare, allenarsi senza impegni ufficiali, fra sette giorni c'è una partita contro Spoleto, una squadra di altissima classifica, cosa vuole dire alla città, alla piazza, a tutti i tifosi in vista di questo appuntamento? Noi con Spoleto oramai abbiamo un po' come con Mondovì, i nostri incroci sono sempre passati per Mondovì e Spoleto, quindi è una partita da un sapore direi quasi romantico per noi, noi vincemmo lì praticamente la B2 in una partita strepitosa a Spoleto con quasi 1500-2000 spettatori e da lì forse è iniziata la vera storia dell'Emma Villas, quindi è rimasto tra l'altro con la Monini un rapporto splendido con la società, con i dirigenti, con Zefferino eccetera e magari potrebbe essere veramente domenica un'occasione per tutta anche la città di Siena, per gli appassionati di sport e per tutti quelli che chiamano la palla a volo anche della provincia di venire a vedere una partita sicuramente di grande importanza e di grande prestigio per noi come squadra, come società ma credo anche per la città di Siena e Spoleto che è una città piena di storia sulla palla a volo, ha fatto la 1 e ha avuto giocatori di grandissimo da Zaysef e papà fino a Ganef, fino a Pippi, quindi affrontiamo una squadra che è la storia della palla a volo e per noi è un giorno di grande importanza, di grande festa anche soprattutto. La partita che si svolta nel pala estra, non è cosa da poco? Ma sì, c'era un po' questa spada di Damocle questa settimana, però io ero comunque ottimista e ero quasi certo che sarebbero arrivati a una soluzione, penso ti riferisci al discorso della... quindi soprattutto perché era giusto anche che succedesse questo. Devo dire che proprio in questa occasione mi piace evidenziare il lavoro fatto dal sindaco, da Bruno Valentini che non ci ha mollato mai, anche a livello di comunicazione interna fra noi, di Leonardo Tafani che ha lavorato tantissimo e ringrazio anche la polisportiva mensana perché sai dall'esterno è facile incolpare, dare responsabilità alla polisportiva piuttosto che a chissà chi. Ci sono dei meccanismi che evidentemente vanno gestiti, vanno chiaramente rispettate le regole, però devo dire che l'operatività e la disponibilità a risolvere il problema da parte di tutti questo ha dimostrato che Siena è una città, è un'organizzazione che comunque in generale dimostra di essere all'altezza per i progetti che stanno mettendo in pista la Emma Villas e anche la Menzana Basket che merita grande rispetto per il grande campionato che sta facendo. Grazie